Ragazzi, devo rifare questo video perché l'avevo già editato e renderizzato e era pronto ad essere uploadato, solo che mi è stato tolto l'audio, non so per quale motivo, da Sony Vegas, quindi adesso mi devo mettere a rieditarlo. E quindi, visto che è un video stupendo dal mio punto di vista, vorrei sin da subito che lasciasse un bel pulcione su. Detto questo, vi lascio al video, buona visione. E buona prima ragazzi, sono TigerCon, oggi mi sono preso nel video, siamo nel quarto episodio di The Journey. Nello scorso episodio avete visto che è stato acquistato Harry Kane e alle sue spalle c'è Gareth Walker. Quindi, siamo messi maluccio, dobbiamo meritare il posto da titolare. Eh, benvenuto nel club, direi. Benvenuti nel club, man. Ah, ciao, sei all'accordo, Alex? Sì, vediamo il deputato, hai fatto bene. Siamo arrivati. Prossima partita contro il Manchester City, e come vedete la barra da quando è arrivato Kane è scesa. Quindi, sarà dura. Entrare e star freschi per quanto riguarda il centrocampo è più difficile rispetto ad entrare e star freschi in attacco. Anche per l'attacco sfrutti, la stanchezza dei difensori, mentre in campo non puoi sfruttare più di tanto. Dai! Cosa ho preso? Tra l'altro Artec è andato al Torino. Dammela. Ok, buona. Hunter punta la porta. È tutto solo. Olè! Assist. Perdimi sul pallino. Comunque, come potete leggere a destra, un giovane in campo è più che sufficiente, quindi se gioca Walker, noi siamo fuori. I difensori non riescono a fermarlo. Recupera il pallone sulla fascia. Siamo entrati negli ultimi otto minuti di gara. Lo ferma, ma non controlla? Ehi, 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 rigore. Non voglio battere io il rigore, non mi interessa, anche se è tipo 3 di tiro. Non voglio battere io il rigore. No, non devo battere io. God, se lo sbaglio, te lo butto dentro io. God. Non pari a tirare l'ultimo. Vai, accentrati, accentrati. Vai, vai Hunter, vai. Ma è velocissimo questo. Andiamo sul destro, sul destro, sul destro. Tiro, incrociare, fuori. Fuori. E' quasi a freddo. E' quasi... Tu sai, quando mi avessi giocato, ho avessi suonare di giocato a giocare in Europe. Travellando a la terra, faceciando la besta delle persone. Gugliel fottbol. E' una altra, è un'altra, è più lentigale, più tactical. As you know we have to submit a list of players for our games in Europe and the gaffer hasn't put your name Pazienza Tanto in quest'anno sono state eliminate preliminari L'anno prossimo saremo dentro Beh diciamo che è abbastanza arrabbiato anche perchè ci siamo sempre fatti trovare pronti soprattutto nel precampionato Comunque ho notato che se prendiamo bei voti in allenamenti l'allenatore è contento Eh guardate quello che si tratta Tommy Endershot Commenta già adesso quello, adesso non so chi sia quello As you know we have to submit a list of players for our games in Europe And the gaffer hasn't put your name Don'emon let me down Don't let me down Don't let me down Anter Si avvicina l'area Tira Non ho preso un po' di questo Ecco, già se parli così Vuol dire che ti pari già al culo Io Non me ne vado Perché? Non c'entro sempre Ma io rimango qua Piuttosto giochi di me non mi rende Ma io rimango in Premier No, non mi fa andare indietro Allora L'ingaggio è uguale Allora L'Aston Villa Il progetto è di riportarla in Premier League Il Newcastle Idem A sto punto io prendo il Norwich Anche perché A me piace come squadra L'ho allenata su FIFA 15 E mi piace come squadra Quindi Visto che non ha vinto alcun titolo Cerchiamo di riportarla in Premier League Sì, ma sapete che se mi mandate in Premier League Io quando torno Non torno più a questo Non mi arriva un'altra spada Sì, però vedi Sì, un'altra spروche Alex practica Hai ... 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 Sì, 3, 4 3 Dad never built me in that playroom No, well Life doesn't always give you what you want, does it? They're letting me go, Grandad Oh, yeah, they're letting you go alone David Beckham and Adam Preston To the making of it No He don't know Si va bene tutto, Rank hanno preso per il culo che ci continuava a mettere dentro Segnavamo anche per far vincere la squadra E poi andiamo in prestito Comunque, adesso siamo al Norwich Do you know what you're talking about Come andiamo con me No Oh 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 Sì, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Forse nel primo o nel secondo episodio, mi sembra nel primo, lui ha detto che ci vediamo in premio a lingua, e adesso in centri. Non è vero, 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 non è vero. No, ma non è vero, 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 wow! Questo è quello che è inizio, ma io tu io non ho capito Non ci proviamo, mi metto una sacca e te lo vedi, se devo stare inizio Pronto per rinfiammare il cammino Mi sembra che io sono pronti per sentire il cammino Passate per ora Come so la scuola Come so you can do il cammino a differenziare I'm gonna make you so happy you can't control your own destiny here Alex There's a lot of opportunity for you here, ask Mr Williams If we don't play good one a week you must train hard the week after to earn your place a camp Capisce? Ok, good Good, love you, I'm a good friend Look, I must go Alex we go to a place while you are here, too small but comfortable Well, I think I'm a bad guy, William As compared to when I met him for the first time Come on, I'll show you around Ok Quindi ragazzi, il mio video è terminato Ci vediamo nella quinta parte dove scopriremo contro chi saremo nella fake out Oh no, come in Sicilia, non mi ricordo Perché ci sono due cose E niente, vediamo poi come proseguirà il nostro piante Comunque, per questo vi ho scritto Se il video vi faccio tutto secondo me, non so se non siete ancora qui al canale Commentate con i video del tema, ci vediamo alla prossima video Ciao